Se non un nome, almeno un metodo. Per il centro-sinistra barese potrebbe essere questo l'obiettivo da centrare l'11 gennaio con la riunione di coalizione convocata nella sede del Partito Democratico. In vista delle prossime elezioni amministrative tornerà quindi a riunirsi il coordinamento delle liste afferenti al centro-sinistra, un rappresentante per ognuna delle circa 30 realtà. Si dovrà decidere se continuare a cercare la sintesi con tutte le forze in campo ed esprimere un candidato unitario oppure ricorrere alle primarie. Ipotesi che sembrava scartata ma che ora torna invece tra le opzioni foraggiata dal deputato Marco Lacarra tra i tre papabili per il Partito Democratico insieme agli assessori Petruzzelli e Romano e dal presidente della regione Michele Emiliano che non ha mai nascosto il suo innamoramento per le primarie. Nel caso in cui si ricorra i gazebo da statuto del Partito Democratico tra i candidati ci sarà sicuramente il nome dell'assessora Paola Romano. Il no del Movimento 5 Stelle resta tuttavia netto con una nota a firma dei coordinatori territoriali innamorato e donno i pentastellati hanno ribadito che ricorrere alle primarie dopo averle archiviate significherebbe voler minare l'unità della coalizione da cui l'invito a fare sintesi su un nome unitario. Contrari alle primarie anche le realtà più spostate a sinistra che convergono sul nome dell'avvocato penalista Michele Laforgia ex presidente dell'associazione La Giusta Causa. Intanto in vista dell'incontro di giovedì è stata convocata la segreteria DEM cittadina per fare un punto sugli argomenti programmatici intorno ai quali si concretizzerà la scelta del prossimo candidato.